e siamo in diretta con caparezza Michele benvenuto ciao grazie grazie mille sei in gran forma è abbastanza sì 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 non si direbbe diciamo ad un primo sguardo ma diciamo perché sai cronologicamente vado verso il viale non lo dico non lo dico però diciamo ora ho fatto mente locale che il viale del tramonto l'ho trasformato in un bosco del tramonto diciamo sì vado verso il bosco non cominciare a parlare di età perché io sono giusto un paio d'anni più giovane io cosa dovrei dire allora ma dobbiamo esserne fieri è diventato un tabù questa cosa in realtà l'ho sempre stato questa cosa dell'età però io diciamo non a meno può fare informamenti se sono fierissimo dell'età che ho benissimo questo è importante essere soddisfatti e fieri insomma degli anni che si portano allora fiero anche direi di un nuovo album che ci hai portato uscito una decina di giorni fa questo album a quattro anni di distanza dal precedente preso nel 709 possiamo dire caparezza il cambiamento continua come sottolinea anche il titolo dell'album ex uvia raccontaci anche per gli ascoltatori di radio bruno ex uvia che cosa significa e perché è così perfetto per questo disco beh questo disco racconta il cambio di fase e il successivo spaisamento nel senso o il contrario c'è lo spaisamento che ti porta al cambio di fase siccome da pugliese io ne ho viste tante di ex uvia che sono poi diciamo la muta di alcuni insetti per esempio quella della cicala che rimane lì come se fosse una scultura perché identica alla cicala cioè come se fosse una cicala vuota senza anima perché la l'insetto è passato ad un'altra fase e quindi diciamo era perfetta come metafora per rappresentare il mio stato d'animo durante la scrittura di questo disco ma anche soprattutto il tema di questo disco che significa in parole povere fare i conti con la realtà con la contemporaneità delle cose che vivi che non necessariamente è uguale a ciò che hai vissuto nel passato 14 canzoni per raccontare questa trasformazione un cambiamento solitamente nasce da qualcosa da qualcuno una situazione un'idea un'insoddisfazione spesso c'è una molla che scatta qual è stata la molla che ha dato vita a questa nuova fase del tuo processo creativo io credo ancora una volta che sono state le candeline da spegnere sono diventate tante e il fiato diventa sempre di meno quindi credo che sia questo poi ci sono sicuramente delle cose che mi sono accadute nella vita che hanno accelerato il processo di cambiamento che viene prima nella testa e poi da tutte le altre parti e quindi diciamo quelli che sono miei problemi insomma le cose che mi capitano nella vita secondo me hanno veramente accelerato questo processo questo cambiamento può avvenire anche per noia nel senso che magari dopo aver fatto essere rimasto nella propria comfort zone a un certo punto uno si annoia e cerca di uscirne fuori ma come dico in un brano nel brano che chiude l'album che si intitola ex uvia il processo di cambiamento può avvenire anche e soprattutto per il dolore dove non arriva la noia arriva il dolore tutto sta diciamo a rendersi conto di questa situazione non aver paura di buttarsi in pasto alla vita in altre forme quindi hai già risposto un po la domanda che ti volevo fare cioè nel senso di fronte a un cambiamento spesso convivono sentimenti e sensazioni diciamo contrastanti no la trasformazione dal passato al futuro spesso può essere un misto di paura c'è quel detto che dice sai quello che lasci non sai quello che trovi però è anche eccitazione e curiosità cosa prevale di più in te in questo cambiamento forse la seconda quello si prevale non sapere quello che trovo che sicuramente stimolante comunque quindi e quindi diciamo per me come persona ma soprattutto in generale per gli artisti credo di parlare in maniera generale rimanere ancorati all'idea che il fruttore ha dell'artista e quindi avere paura di non soddisfare le aspettative ti porta a scrivere sempre nella stessa maniera ed affrontare le cose sempre nella stessa maniera questa è un po la morte dell'arte secondo me bisogna sempre fare in modo che la prossima opera sia diversa da quella precedente e questo deve essere un processo diciamo naturale perché crescendo si è diversi e quindi quello che si fa deve essere diciamo perfetto la perfetta sintesi di quello che si che si pensa e che ecco nel modo in cui si agisce al momento in una in una delle tracce del disco in campione dei 90 fai pace anche con quello che possiamo definire il tuo primo alter ego mickey mix che ti ha portato tante speranze ma anche purtroppo tante delusioni anche in quel caso è lasciato un exuvia dietro di te diventando un altro sì in realtà non è che mi ha portato tante delusioni sinceramente io ho fatto pace con quello considerandolo un passo falso e lo scopo di quella canzone non è tanto riabilitare la figura di del cantante pop rap e in realtà spiegare che all'interno di un percorso di vita ci sono anche dei momenti che magari non consideriamo particolarmente edificanti ma che fanno parte del nostro percorso per riassumere gli errori sono delle lezioni non se riusciamo a prenderli come delle opportunità e quindi la frase finale di quella canzone appunto sai a volte il traguardo comincia da un passo falso perché comunque ha portato un traguardo se sai diciamo trarne una lezione è vero quando c'è in giro un disco la promozione quindi il tour eccetera eccetera si è sotto riflettori lì sei un po' betoven giusto per citare uno dei due personaggi che sono nella scelta che tra poco ascolteremo quando si chiude una fase torni magari a essere un po' mark inteso come mark hollis insomma o meglio michele e quando michele non è caparezza che cosa ama fare beh paradossalmente a me io compongo quando quando sono michele e non compongo quando sono caparezza nel senso riproduco quando quando sono caparezza quando la cosa che tento di fare però credetemi anche se è una cosa un po' da pazzi e dimenticarmi forzarmi a dimenticare che che il mio alter ego si chiama caparezza cioè non cerco di non essere io poi cito il grande maestro de gregori no guarda che non sono io me lo ripeto quasi allo specchio perché voglio vivere lontano da questo da questo personaggio che mi serve solo ed esclusivamente quando voglio ritrovare fuori il mio lato artistico per il resto cerco di vivere una vita normalissima nella mia molfetta nella mia amata puglia faccio le cose che fa chiunque però il tuo alter ego caparezza lo porterai sul palco ma tu non sai che gioia ci dà parlare di tour e a febbraio del prossimo anno con l'exuvia tour sarai nei palasport un tour bello fitto di di date che partirà da jesolo il 19 di febbraio poi tante città ne cito sotto alcune mantova firenze livorno pesaro bologna milano torino che tipo di spettacolo vorresti portare sul palco in realtà non l'ho ancora organizzato lo spettacolo perché sono entrato nel turbinio della promozione del disco e quindi ho perso un po di vista anche perché ho ancora tempo per tirarlo per tirarlo su sicuramente non diciamo avrà quell'impronta teatrale non che mi contraddistingue ma che mi piace perché io ho sempre amato gli show io preferiti molto spesso alle esecuzioni musicali cioè mi piace che sul palco accada qualcosa anche dal punto di vista visivo questa è la mia cifra artistica per quanto io stia cambiando fase è ancora molto forte però la sì credo che la proporrò in una maniera un po diversa forse forse meno gag più performance più quindi più sbilanciata dal lato artistico senti prima di salutarti ho visto al volo una domanda di un'ascoltatrice che è virna che dice una domanda per caparezza il singolo il titolo fuga da in ex uvia è scritto dice virna tutto attaccato e con l'accento lei vuole sapere perché perché sembrava un posto da cui fuggire sono in fuga da tipo il canadà mi piaceva siccome non dico mai in fuga da cosa nel senso che fugo da tantissime cose in quel brano lì mi sembrava paradossale dire sono in fuga da come se fossi fermo quando in realtà mi sto spostando questo fuga da tutto unito sembra una condizione ecco più che altro condizione mentale è stato veramente un piacere fare due chiacchiere con te io spero che riusciremo ad incontrarci fisicamente molto molto presto così avremo modo di parlare ancora della tua musica perché ci sarebbero tantissime cose ancora da fare da di cui parlare ma la cosa più bella della musica è che la si può ascoltare allora noi chiudiamo proprio con il tuo singolo che è la scelta michele grazie per essere stato con noi grazie a voi grazie a presto un abbraccio forte ciao